Il soffio della vita tra Oriente ed Occidente, seconda puntata. Nella biomedicina dell'Occidente si fa coincidere il soffio vitale con la nostra energia. Energia che è prodotta nelle cellule, dalla combustione delle molecole di un zucchero, il glucosio, da parte dell'ossigeno. Alla base di questo processo la funzione respiratoria, dunque del polmone che la governa, che insieme con quella circolatoria governata dal cuore, permette l'assorbimento dell'ossigeno assorbito a livello alvolare e il suo trasporto fino alla cellula, dove la sua combustione permetterà di bruciare le sostanze alimentari assorbiti a livello intestinale e trasportate dal sangue alla periferia per produrre la nostra energia. Anche in Estremo Oriente è il soffio vitale che possiede un ruolo fondamentale nell'origine e nel mantenimento dell'esistenza. E il termine con cui i cinesi definiscono questo soffio vitale è Qi. Vediamo qui l'ideogramma. Qi si legge con una Qi molto dolce che deve dare l'idea della vitalità. L'ideogramma di Qi contiene due radicali. Quello in basso e a sinistra indica il riso e rappresenta la parte materiale del Qi, mentre quello in alto a destra rappresenta una voluta di vapore che sale in alto, un soffio che si solleva e rappresenta la parte energetica. Nella cultura cinese il Qi è il risultato dell'interazione del cielo e della terra. Li ezi e nel III secolo afferma che gli elementi più puri e leggeri tendono verso l'alto e producono il cielo, mentre quelli più grezzi e pesanti tendono verso il basso e producono la terra. Il cielo, qui vediamo l'ideogramma, è l'Uno, un tratto che sovrasta un grande uomo, mentre la terra è il Due, due tratti, cioè suolo e sottosuolo da cui spunto un germoglio, ma anche la terra in basso, correlata al cielo in alto. La vita non può accadere finché il cielo si leva in alto e la terra si raccoglie in basso senza una reciproca contaminazione. È solo con l'inizio dell'interazione del cielo e della terra e della loro trasformazione reciproca che origina la vita, cioè originano lo yin e lo yang che a loro volta si trasformano reciprocamente e incessantemente generando il soffio vitale, il cielo. In Cina si afferma che il cielo promuove l'iniziativa della vita e questa iniziativa viene raccolta e portata a compimento dalla terra. Per questo motivo il qi deve possedere un elemento yin, il riso, che rappresenta in modo simbolico la sua origine terrestre e dunque alimentare, e uno yang, il vapore, che è di origine celeste, certamente più impalpabile e si collega al fenomeno respiratorio. Secondo la filosofia cinese tutto ciò che esiste, tutto ciò che esiste nel cosmo, è il risultato della trasformazione reciproca di yin e yang ed è dunque una forma di qi. Van Fummi nel XVII secolo affermava che il vuoto è pieno di qi che allo stato di condensazione è visibile ed è chiamato essere, e allo stato di dispersione ed è invisibile ed è chiamato non essere. Ed ancora affermava che il qi è un continuo di materia che condensandosi determina una forma che prende il nome di sing. Sing è un discontinuo di materia che disperdendosi perde la forma e si trasforma in un elemento immateriale energetico che prende il nome di qi. Zhang Tsai nel XII secolo affermava che il grande vuoto consiste di qi. Il qi si condensa per trasformarsi nei diecimila esseri. I diecimila esseri si disintegrano e ritornano al grande vuoto. Ed ancora affermava che ogni nascita è una condensazione, ogni morte è una dispersione. La nascita non è un guadagno e la morte non è una perdita. Quando si condensa il qi diviene essere vivente, quando si disperde è il substrato delle mutazioni. Quando ho iniziato a studiare la medicina cinese il qi si denominava soffio vitale, ma poi in pratica spesso lo si traduceva col termine energie. Solo col tempo ho imparato che questa traduzione era gravemente erronea perché sottolineava prepotentemente l'aspetto yang del qi, la voluta di vapore, materiale ed energetica, trascurando del tutto l'elemento yin, e cioè il riso. È per questo motivo che da molti anni preferisco utilizzare solo il termine qi che li comprende entrambi. Video di medicina dall'Italia alla Cina. A cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su avopuntura medicina cinese medicina integrata